Era stato condannato ad Arezzo per traffico di stupefacenti, ma era riuscito a scappare a Santo Domingo, dove aveva iniziato una nuova vita. Ma per l'uomo, un cinquantenne di origine napoletane, adesso si sono aperte le porte delle carceri italiane. Si tratta infatti di uno degli otto latitanti, sette uomini e una donna, arrestati oggi nell'operazione Open World, che si sarebbe dovuta concludere già a maggio, congelata per lo scoppio della pandemia. L'operazione è stata coordinata dal Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, in cui operano tutte le forze di polizia. Dopo mesi di indagini e attività congiunte di Interpol Italia e di Interpol Santo Domingo, sono atterrati all'Alba Fiumicino con un volo dedicato agli otto latitanti, con alle spalle diverse storie criminali, ma uniti dall'essere scappati ai Caraibi pensando di averla fatta franca. Il cinquantenne napoletano era finito in manette nel 2010 al termine di una delicata operazione dei Carabinieri di San Giovanni Valdarno, a contrasto del traffico di droga nella vallata. era poi riuscito a darsi alla fuga lasciando in Italia moglie e figlia. A Santo Domingo aveva così aperto un'attività commerciale e si era rifatto una vita con un'altra donna dalla quale aveva avuto due figli. Il cinquantenne adesso è stato arrestato su mandato di cattura in ambito nazionale e condannato dalla Procura di Arezzo ad oltre otto anni di reclusione. I reati che gli vengono imputati sono tutti connessi al traffico di sostanze stupefacenti.